Il presidente del TAR della Toscana Armando Pozzi risponde al fuoco dopo il fiume di dichiarazione di politici e istituzioni uscite sulla stampa sulle due sentenze che hanno bocciato prima l'ampliamento dell'aeroporto di Firenze e poi l'ordinanza del sindaco di Firenze Dario Nardella che dimezza l'orario di apertura delle sale slot. C'è stato bisogno, cosa mai successa, di convocare i giornalisti in tribunale per ribadire i compiti del TAR e rimandare al mittente le affermazioni di enti ed esponenti politici come il sindaco di Firenze che sostengono che il TAR non sia collaborativo e finisca per remare contro la lotta a piaghe sociali come la ludopatia, come nel caso delle slot. Io considero quella sentenza un bicchiere e mezzo pieno per chi ha detto i sindaci debbono e possono disciplinare ma lo devono fare nel rispetto delle regole che il TAR ha ritenuto in questa specifica circostanza che non fossero state pienamente rispettate, è un fatto puramente tecnico. Un messaggio che invita ad abbassare i toni, a evitare sensazionalismi che Pozzi stesso ha definito distensivo salvo poi scagliare un potente guanto di sfida alla politica. È una vita che sto dicendo no ai giudici di nomina politica, soltanto giudici di concorso come dice la nostra Costituzione. Poi la stoccata finale, se a qualcuno il TAR da fastidio si prenda la responsabilità di cambiare gli articoli della Costituzione ha detto Pozzi che ne definiscono ruolo e competenze.